Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirati per entrare. Mi serve un'altra persona. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirati per entrare. Mi serve un'altra persona. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirati per entrare. Mi serve un'altra persona. Così non va. Entrambe le leve devono essere tenute tirati per entrare. Mi serve un'altra persona. Vuoi ancora aiutarci? Sì. Appena le guardie se ne vanno. Ha detto, suona di nuovo il corno. Come desideri. Ora potresti suonare come ho chiesto. Perché l'assistente ha suonato il corno? Avrà avuto i suoi motivi. Noi restiamo in guardia. E questa musica non partiremo mai con l'esecuzione. Quando sarai pronta, fammelo sapere. Dobbiamo assicurarci che avrete tutto l'esercizio. Ci riproviamo? Veloce, stavamo. Le guardie sono a posto. Allora muoviamoci. Forza. Dovrebbe andare. Che vuoi, sacerdote? Tranquillo. Sono un'amica. Non somigli a nessuno dei miei amici. Credimi. Sono un lupo travestito da pecora. Tua figlia ti aspetta. Puoi camminare. Chiara! Capo. Chiara! Scappa! Mettiti in salvo! Ti troverò! Riuscirò a tirarci fuori. Ora ti riconosco. Sei la straniera che ho visto colmurato al villaggio di sotto. Anch'io ti riconosco. Ti avevano detto di lasciare stare Kuku Kahn. Sono stato avventato. Acceccato dalla vendetta. Ora lo so. Ho rischiato tutto, compresa la mia dolce Chiara. Una figlia ha bisogno di un padre, non di vendetta. Hai proprio ragione. Grazie.